Tre aziende innovative di Firenze hanno ricevuto a Palazzo Vecchio, nell'ambito di The State of the Union, il riconoscimento Europa a misura di impresa, consegnato dal Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Basilichi. Ci piace l'Europa che ci supporta sulle idee, ha detto Basilichi. L'ultima delle 136.981 imprese è nata appena 15 minuti fa. Ma diciamo che oggi noi abbiamo premiato tre aziende e abbiamo dimostrato che c'è un'Europa che funziona. E' la cosa migliore che pensiamo poter fare in un contesto come oggi da Firenze, dove è espresso il massimo dell'Europa, diciamo, come pensatori, come realizzatori, come politici, come esecutori. L'idea è che oggi il Presidente del Parlamento si sia, diciamo, con noi soffermato a premiare queste tre imprese che hanno dimostrato di saper lavorare in Europa e tra l'altro tre imprese di caratteristiche e mercati completamente diversi dal tipico nostro, quindi molta innovazione, molta design su esportazione, ci inorgoglisce veramente. Quindi bene per le imprese e bene per l'Europa che ci piace.